mi devo dire che adesso un insegnamento alle persone stanno in casa, a quelle che ne abbiamo più bisogno pensiamoci, perché lo sport serve a questo, a dare la mano nel cuore io voglio dire un'altra cosa, ringrazio anche il Presidente della Finanza e a tutti loro che mi hanno dato fiducia, e questo è importante ringrazio veramente, non stavo bene con voi, la squadra stava bene e io spero di non finire così, e mi dico una cosa, Vatos ha 50 anni però ricordatevi questo, che lo sport serve a gamma ma che ha bisogno ricordatevi, io passi a qualche Presidente della Finanza no grazie Sandro, ricordatevi però, Sandro ha detto delle parole meritevoli ha detto delle parole importanti, Sandro viene ancora qua perché il Vice Presidente della UISP vuole consegnarti un attestato di ricordo di questa tua partecipazione però vorrei sentire anche le parole dell'altra gruppo che si è esibito, Finanza in Frende Buonasera, buonasera a tutti, questo è un pomeriggio di festa, un pomeriggio di gioia è un pomeriggio di sport come sempre dovrebbe essere, ragione Sandro quando dice che lo sport serve a tutti serve per far divertire, serve per far trascorrere il tempo con gioia io ho visto nel pomeriggio una quindicina di ragazzi con maglie diverse che si sono divertiti si sono impegnati, poi beh qualcuno ha vinto ma non ha importanza, non è la vittoria quella che conta l'importante è aver trascorso un bel pomeriggio insieme e veramente mi ha commosso l'espressione di Sandro quando dice lo sport serve a tutti non serve soltanto per far guadagnare alcuni ma serve a far divertire tutti grazie e per chi ne ha eseggiato grazie a tutti quanti e buona sera anche a loro l'attestato consegnato dal vicepresidente della Unice l'attestato è questo inviterei tutti i giocatori a venire qui davanti avete fatto una bella partita siete divertiti, avete onorato lo sport dal pubblico un grande applauso, un grande ringraziamento da parte del Paoloni e del vicepresidente della UISPE un ricordo che vi vogliamo lasciare a tutti una medaglia di ricordo di questa nostra festa dello sport grazie della vostra partecipazione grazie di essere stati qui e ci rivedremo con Sandro senza altro il prossimo anno ormai siamo invecchiati insieme un grande ringraziamento alla finanza in prende con la quale è iniziata una grande collaborazione con la quale è iniziato questo grande impegno di solidarietà ci divertiamo facciamo del bene e noi siamo contenti di fare questo quindi quando ci volete invitare noi siamo sempre contenti bene, grazie a finanza in prende grazie alle tete di Umanema tutti qua per la...